ok questo è un ferro da stiro che si usava un tempo perché non c'era l'elettricità ed è tutto e un ferro ingrellato si apre si chiude si deve chiudere qua c'è un gancetto si chiude e il ferro è chiuso ecco e poi c'era l'appoggio l'appoggio a forma di ferro sotto io quando ero piccola con la mia mamma lo usavamo perché o si stirava con questo o con niente però è una cosa che mi è rimasta a livello affettivo è una cosa molto tradizionale dei paesi salentini più che altro è un po' vecchiotto però è giovane per me io mi chiamo Anna ho 72 anni e mando un bacio iscriviti al canale